questa è la simulazione è vuota nel piano nel piano noi abbiamo chiuso nel vero piano con 10 cm di simulazione si chiuderebbe fino alla rotonda dove c'è il sottopasso però adesso secondo me è presto no no, vi sto dicendo quando così ci capiamo nel caso la questione la questione della cassa la dobbiamo verificare ai per il suo posto sembravano tutti più tranquilli c'è stata questa forse enorme quantità della cassa ed è tutta nella zona siamo praticamente sotto al punto di Sant'Ambrogio la situazione di l'acqua la vedete anche voi purtroppo l'acqua sta salendo ancora la vedete la vedete la vedete in front of the left